Oggi siamo particolarmente soddisfatti di questa inaugurazione che rappresenta un ulteriore mattone nella costruzione di una delle più importanti infrastrutture non soltanto di Catania ma della Sicilia orientale. Il governo musumece è stato sempre vicino dal primo momento a FCE, al suo commissario Mautoni, al suo direttore Fiore e a tutti i dirigenti e gli impiegati perché riteniamo che questa azienda di Stato sia una delle più importanti occasioni di sviluppo non soltanto per Catania ma per la nostra isola. Continueremo a sostenere e a supportare queste iniziative e la realizzazione e lo sviluppo di questa infrastruttura nel momento in cui porremo la prima pietra entro l'anno per la realizzazione della stesicola aeroporto.